Perpetuare se stessa La parola realizzazione è uno scherzo della mente semplicemente perché occulta un fatto banale e cioè che in questa maniera la mente non fa altro che perpetuare se stessa La parola realizzazione diventa una specie di camuffamento del fatto che la mente si alimenta proprio in questo modo né più né meno soltanto che se dite io sono realizzato vi sentite tutti quanti beati e contenti e la mente scompare Quando è casomai che viene fuori la questione della mente? Quando siete insoddisfatti Allora la mente salta fuori e dice Guarda che sei insoddisfatto Cerca, cerca, cerca Ma quando siete soddisfatti e ancor più quando vi sentite realizzati che cosa vi interessa della mente E poi la realizzazione non significa espungere da sé tutti quelli che voi chiamate problemi né tantomeno significa espungere da sé tutte le difficoltà né tantomeno significa togliere tutte le cause possibili di sofferenza Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti